Vi è mai capitato sfogliando la home page di Facebook di non trovare gli aggiornamenti sulle vostre pagine preferite? Ecco un piccolo trucco che potrebbe tornarvi molto utile. Utilizzando ad esempio un PC o un portatile andremo a cercare la pagina Oram SRL con un qualunque browser internet. Io ho utilizzato Firefox ma anche Chrome e Internet Explorer sortiranno lo stesso effetto. A fianco del titolo troviamo la casella Mi piace. Portando il mouse sopra apparirà un menu. Da questo selezionate Post nella sezione Notizie. Vi si aprirà questa finestra dove potrete esprimere la vostra preferenza. Ad esempio potrete usare l'impostazione predefinita oppure consigliato è di selezionare Mostra per primi così da avere sempre sott'occhio le informazioni più importanti. Altra funzione importante sono le notifiche come video, foto, link, aggiornamenti di stato. Il mio consiglio è di selezionare tutti i post così da non perdere nemmeno un aggiornamento. Non dimenticate le notifiche su nuovi eventi. Sarebbe un peccato mancare ad un appuntamento imperdibile oppure venirne a conoscenza troppo tardi per organizzarsi. Anche in questo caso potrete cambiare le impostazioni in qualunque momento. Su smartphone o tablet aprite l'app di Facebook e cercate Oram SRL. Cliccate mi piace se non l'avete già fatto e cliccando l'icona a fianco potrete impostare se ricevere le notizie usando la pertinenza standard di Facebook oppure dare maggior risalto agli aggiornamenti di Oram SRL. Utilizzando questi piccoli accorgimenti riceverete molte più notizie ed informazioni dalle vostre pagine preferite.